C'era una volta una donna che un giorno incontrò un nemico molto potente. Era una strega vestita di bianco, che al principio sembrava buona, ma dopo si trasformò in una cattiva, molto cattiva. Si impadronì del corpo della donna. Quando tutto sembrava perso, riuscì a chiedere aiuto e per fortuna fu salvata. E poi, e poi sono nata io. Aiutaci a far sì che sempre più storie di droga abbiano un lieto fine.